27 persone e 5 società sono state rinviate a giudizio a conclusione dell'udienza preliminare del procedimento denominato Scirocco, avviato dalla DDA di Catanzaro sui presunti illeciti nella gestione degli impianti di depurazione, facenti capo al gruppo Minieri che fornisce le sue prestazioni, oltre che in Calabria, in Emilia Romagna, Basilicata e Sicilia, gestendo oltre 500 impianti. Il rinvio a giudizio è stato disposto dal gruppo di Catanzaro Arianna Roccia, tra le persone rinviate a giudizio, ci sono Giuseppe, Mario e Savero Minieri, amministratori dell'omonimo gruppo, i responsabili degli uffici tecnici dei comuni di Belvedere Marittimo, Paola Di Stio, Pasqualino Calabrese e Raffaele Rosignuolo e di Falconara Albanese Rosario Sessa. L'accusa nei loro confronti è di avere commesso una frode nell'esecuzione dei contratti di affedamento nel servizio di gestione dei depuratori, liquidando somme per prestazioni, che erano in realtà per contratto a carico delle società del gruppo Minieri. La DDA di Catanzaro contesta le persone coinvolte nell'inchiesta a vario titolo, i reati di associazione per delinquere al fine di commettere reati ai danni dell'ambiente e della pubblica amministrazione, frode nelle pubbliche forniture, inquinamento ambientale, traffico di illeciti rifiuti e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.